Teramo in campo qui domani al Bonolis per affrontare il Padova, l'ultima gara di un trittico di partite che ha visto la squadra di Asta affrontare. Formazioni di vertice, trittico iniziato con la Feralpi e poi proseguito domenica scorsa contro il Bassano. Padova che si è allenato anche a Teramo per provare il sintetico, che dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Guidone e Capello in avanti. Andiamo ad ascoltare le parole di Asta sul prossimo avversario. Squadra esperta, squadra di qualità, squadra esperta in certe zone ma anche giovani di valore, perciò è un mix giusto. Mi aspetto un Padova come le ho viste nelle ultime gare che comunque gioca con parecchi attaccanti, due attaccanti, tre quartiste, i centrocampisti si inseriscono molto, i terzini si propongono. Quindi è una squadra proiettata molto alla fase offensiva. Quindi domani per l'ennesima volta dobbiamo fare una grande gara difensiva e sfruttare al meglio quelle occasioni che ci capiteranno. Per quanto riguarda invece il Teramo, Asta dovrebbe confermare l'ormai consueto 3-5-2. Ci saranno alcuni cambiamenti rispetto alla formazione vista contro il Bassano domenica scorsa. Foggia e Bacio Terracino dovrebbero essere la coppia d'attacco scelta dal tecnico Biancorosso e Udite Udite. Al centrocampo potrebbe anche esserci la conferma di Graziano però nel ruolo di play a dispetto di Amadio provato molto spesso in settimana che sembrava dunque prossimo al rientro. Mentre in difesa Altobelli dovrebbe essere preferito a Sales ma Asta parla anche, ha parlato questa mattina di qualche punto in più che avrebbe preferito ovviamente rispetto agli attuali sette del Teramo fin qui raccimolati appunto dalla squadra biancorossa. Ascoltiamo. Per quello che abbiamo dimostrato in campo dovevano essere, non dico molti di più, sicuramente qualcuno in più e questo no perché poi le partite le abbiamo fatte. Ho tolto il primo tempo di Pordenone ma questa è un'acqua passata, lo sappiamo, però non posso dirvi che un pochino, non dico che mi preoccupa come dicevo prima, però quando giochi bene e non vinci, mi preoccupo sì perché giochi bene, fai buone prestazioni e non vinci e allora forse magari giocare meno bene e portare a casa qualcosa, ma sicuramente forse succederà così anche qualche altra volta. Però non c'è dubbio che dobbiamo pensare che quando proponi 4-5 palle gol di cui 2-3 clamoroso come a Bassano e tu per tu col portiere non puoi pensare poi di vincere le partite se non fai gol. E infine proprio per quanto riguarda gli attaccanti il tecnico biancorosso si augura che a fronte delle numerose occasioni avute finora dalla sua squadra gli stessi attaccanti non entrino in un tunnel che poi sarebbe difficile da superare per quanto riguarda appunto una maggior concretezza sotto porta. Lavoriamo in settimana con i giocatori, con delle esercitazioni mirate ma a volte purtroppo quando arrivano gli ultimi 20 metri non ci sono grandi esercitazioni, lì c'è la qualità del giocatore, la freddezza e magari in questo momento cosa mi dispiace se magari gli attaccanti entrano in un tunnel critico anche loro su loro stessi, l'autostima è minore, tanto sbaglio, ecco questo non deve succedere.